Professore di disegno e storia dell'arte del Tullio Levi Civita e con il secondo C, la mia classe, abbiamo deciso di partecipare a questo evento perché come i ragazzi la vera cultura è indisciplinata e questa ci è sembrata un'occasione utile per poter proporre ai ragazzi e anche agli altri compagni delle altre classi un'esperienza che vada al di là di quelli che sono i contesti tradizionali del sapere, cioè della scuola.